Quali sono le novità che presentate qui a Mido? Quest'anno al Mido 2015 abbiamo una grandissima novità perché abbiamo stretto un accordo di licenza con l'azienda Piaggio per la produzione e distribuzione sul mercato globale del marchio Vespa. Quindi quest'anno per noi è un avvenimento molto importante perché abbiamo sviluppato una collezione che richiama quello che è stato la dolce vita italiana. Ovviamente tutta la modellistica riprende gli occhiali che erano portati dalle dive del cinema e della moda degli anni post-war, quindi dal 60 fino al 90. In effetti potete vedere il primo posizionamento della collezione è proprio Primavera come appunto la Vespa che ha uno stile molto giovane, colorato, frizzante. Per poi passare a dei modelli molto interessanti che sono come il Pix, quindi chi è che non ha avuto una Vespa Pix? Quindi una bella modellistica vintage, tutti gli occhiali sono inaccettati. Per poi passare a quello che è il posizionamento più importante che è l'ammiraglia della Casa Piaggio ed è ovviamente la 946. Abbiamo costruito degli occhiali con le lenti in vetro e degli occhiali molto interessanti come che richiamano proprio gli anni 80 e sono gli occhiali da vista con poi la possibilità di alzarli oppure con il clip-on e anche la mita che si possono staccare. Quindi quest'anno per noi è un evenimento molto importante e stiamo riscontrando un grande successo.